e vanno a fare cosa più semplice è dura? no è dopo ma se vuoi vedi che vai là in alto no, no, no se ti hai passato i spampi ci passi anche tu dai vai alzalo su e basta marco alzalo su tutto così vieni passa sotto e basta che lo tiriamo via e stop e lo mettiamo anche e un po' che è giù non te la tocca lui il beta vedi che arriva dai marco che tu sei forte e come ma va mi cade in testa a me tira tira bravo e ma spanti e non c'è figura lo sapevo che era rotta e ne hanno giù a piedi qua lo devi tagliare vito che almeno magari resta lì il pezzetto e s'arrangia andalo via qua no è che è l'unico che quando si allaga l'unico passaggio è questo non ce n'è altri perché si allaga anche di là la strada poi il cazzo qua è micidiale quando cominci a andare non ti fermi più se ti va giù di traverso non la tiri su più dopo è una misera tutti adesso passano